Capitolo 34 Mia madre e Susanna erano su delle sedie da spiaggia e io ero sdraiata su un vecchio telo con l'orsetto di Ralph Lauren. Era il mio preferito perché era lunghissimo e morbido per i molti lavaggi. «Che fai stasera, cocca?» mi chiese mia madre. Amavo quando mi chiamava cocca. Mi faceva tornare in mente il periodo in cui avevo sei anni e mi addormentavo nel suo letto. Con orgoglio dissi «Che a me e io andiamo al minigolf!» Ci andavamo in continuazione da bambini. Ci accompagnava il signor Fisher e ogni volta metteva i ragazzi uno contro l'altro. «Venti dollari per il primo che fa buco al primo colpo! Venti dollari al vincitore!» Stephen ne era felicissimo. Penso che avrebbe desiderato avere il signor Fisher come padre e in effetti avrebbe potuto esserlo. Susanna mi raccontò che mia madre era stata la prima a frequentarlo, ma che poi lo aveva ceduto a Susanna perché sapeva che assieme sarebbero stati perfetti. Il signor Fisher mi includeva nelle gare di minigolf, ma senza aspettarsi che vincessi. Ovviamente non vinsi mai. A ogni modo odiavo il minigolf. Odiavo le minuscole matite segnapunti e il prato finto. Era tutto così fastidiosamente perfetto. Un po' come il signor Fisher. Conrad desiderava con tutto se stesso essere come lui e io speravo che non lo diventasse. Come lui, intendo. L'ultima occasione in cui ero andata al minigolf era stata quando avevo tredici anni e mi era venuto per la prima volta il ciclo. Indossavo dei pantaloni bianchi al ginocchio e Stephen si spaventò. Pensò che mi fossi tagliata o cose del genere. Per un istante lo pensai anch'io. Dopo di ciò, dopo aver avuto il ciclo alla quarta buca, non ci vogli più tornare. Neppure quando i ragazzi mi invitarono. Perciò andarci con Cam fu come reclamare il minigolf, riprenderne possesso. Avevo sempre avuto in testa di farlo. Mia madre disse, puoi tornare presto? Mi piacerebbe che passassimo un po' di tempo assieme, magari a guardare un film. Quanto presto? Voglio dire, voi due andate a letto alle nove. Mia madre si tolse gli occhiali da sole e mi guardò. Sul naso, nel punto in cui aveva tenuto gli occhiali, c'erano due segni. Vorrei che tu trascorressi più tempo a casa. Adesso sono a casa, le ricordai. Si comportò come se non avesse sentito. Passi così tanto tempo con questa persona. Mi avevi detto che ti piaceva. Guardai Susanna in cerca di sostegno e lei ricambiò con uno sguardo comprensivo. Mia madre sospirò e a quel punto intervenne Susanna dicendo, Cam ci piace, è che sentiamo la tua mancanza, belli. Noi accettiamo che tu abbia una vita tua. Si sistemò il suo floscio cappello di paglia e mi fece l'occhiolino. Solo che vorremmo che tu ci permettessi di farne parte almeno un po'. Sorrisi il mio malgrado. D'accordo, risposi tornando a sdraiarmi sull'asciugamano. Tornerò a casa presto, guarderemo un film. Affare fatto, concluse mia madre. Chiusi gli occhi e mi misi le cuffie. Forse aveva ragione lei. Trascorrevo troppo tempo con Cam. Forse mia madre sentiva davvero la mia mancanza. Solo che non poteva aspettarsi che passassi tutte le sere a casa come ogni altra estate. Ora avevo quasi 16 anni, ero praticamente un'adulta. Doveva accettare che non sarei stata per sempre la sua cocca. Pensavano che fossi addormentata quando iniziarono a parlare e invece non lo ero. Riuscivo a sentire cosa dicevano malgrado la musica. Conrad si sta comportando come uno stronzetto, disse mia madre a voce bassa. Ha lasciato tutte quelle bottiglie di birra in terrazza e stamattina è toccato a me fare pulizia. La cosa sta diventando ingestibile. Susanna sospirò. Penso che si sia accorto che c'è qualcosa che non va. Sono mesi che si comporta così. È molto sensibile, so che la cosa lo ferirà profondamente. Non credi sia arrivato il momento di raccontarlo ai ragazzi? Quando mia madre diceva non credi, in realtà intendeva dire io lo credo dunque dovresti crederlo anche tu. Alla fine dell'estate. Beck, fece mia madre, secondo me è arrivato il momento. So io quando è il momento, replicò Susanna. Non farmi pressioni Laurel. Sapevo che mia madre non sarebbe riuscita a farle cambiare idea. Susanna era tenera ma quando voleva era risoluta, testarda come un mulo. Era dura come l'acciaio sotto a tutta la sua tenerezza. Avrei voluto rivelare a entrambe che Conrad sapeva già tutto, come pure Jeremiah, ma non me la sentì. Non sarebbe stato giusto. Non spettava a me dirlo. Susanna desiderava che quella fosse un'estate perfetta, nella quale i genitori erano ancora uniti e tutto era come sempre. Quel genere di estate non esiste più, avrei voluto dirle.